Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Stavano per fare una gran brutta figura quegli sposi di Cana dei quali ci parla il Vangelo di questa Domenica. Le fortuna c'era Gesù, prima ancora Maria, era lei l'invitata, e se ne accorse in tempo non hanno più vino. La festa rischiava di finire presto. Sì, è vero, ci stiamo abituando a esperienze di festa che finiscono presto. Sposi che dopo qualche mese dalle nozze non hanno più vino e se ne vanno ognuno per conto suo. Preti, persone consacrate che non hanno più motivi per continuare ad essere ciò che avevano scelto di diventare. Al giorno d'oggi poi, proprio questa cultura che respiriamo sembra fatta apposta per prosciugare le nostre risorse di vino buono. Esattamente perché è finito, si va avanti ad acqua o ad aceto. Perché mai l'Evangelista Giovanni ha narrato questo fatto come il primo segno compiuto dal Signore. Perché adesso, con Gesù, Dio è qui per sposare questa nostra umanità. È Lui lo sposo. E la sposa è questa immensa carovana umana che cammina sulla faccia della terra. Il vino buono è Lui stesso che lo fornisce. Grazie a Lui anche la nostra acqua può diventare vino buono che dura sino alla fine. Se Dio è qui a chiedere la nostra mano, come un innamorato, chi sarà così il responsabile da rifiutare la mano a Dio, a Gesù Cristo? Perché rischiare di andare avanti ad acqua? Vale per tutti, sia chiaro, in qualsiasi stato di vita o professione ci vuole amore per andare avanti vivendo. Ecco di cosa è il segno quel vino buono. Senza amore non si vive, si vegeta. Al giorno d'oggi la provvidenza ci sta aprendendo davanti certe opportunità dalle quali potrebbe venire a noi vino nuovo se le sapremo accogliere. Alludo ai migranti, ai rifugiati dei quali si parla in questa domenica. Un fenomeno ormai di vaste proporzioni che sarebbe decisamente superficiale e controproducente valutare solo a partire dalle sue espressioni negative. È la provvidenza di Dio a guidare la storia degli uomini. Anche un tale fenomeno allora riserva delle opportunità. Non solo di carattere economico, ben inteso, ma soprattutto di cultura, di valori, di umanità, che possono dare nuova linfa a una società piuttosto inaridita, quale sembra essere la nostra. Diamo fiducia alla provvidenza. Permettiamo a Dio di trasformare in vino buono la nostra acqua. Buona domenica! Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattinne.